A Radio Alfa, momenti di gloria, musica, notizie e curiosità dal territorio, con Gloria Bergamini. Ed eccoci qui nei momenti di gloria, buon pomeriggio e ben ritrovati su Radio Alfa, le nostre frequenze ogni giorno vi accompagnano con le notizie che riguardano il territorio e la gente che fa il territorio. E proprio quest'oggi abbiamo il piacere di avere nei nostri studi un coro, un coro della scuola superiore Falcone di Asola e adesso vogliamo sapere bene come si chiama questo coro perché ha un nome importante ma che io continuo a sbagliare, sentiamo. High School Choir and Band. Bellissimo, vedete com'è bella questa voce, è una delle studentesse che partecipano a questa importante realtà che quest'oggi andremo a raccontare ai nostri microfoni. Quindi benvenuti a tutti, un bel gruppo di persone, ci sono dei genitori, ci sono dei ragazzi studenti dell'Istituto Superiore Falcone di Asola e gli insegnanti che sono anche un po' corpo vivo di questa realtà asolana ma non solo perché in realtà poi la scuola è ad Asola ma tutte le persone sono di posti diversi. Quindi ringraziamo soprattutto i professori che quest'oggi sono con noi al microfono e sentiamo subito la prima voce, magari ti presenti visto che non ricordo il tuo nome. Io sono Cristina Gazzi e insegno matematica e fisica a scuola e quindi sembrerebbe qualcosa che non ha niente a che fare. Siamo in due insegnanti di matematica e fisica in realtà, io e la professoressa Saba Mainardi. Benissimo. E c'è il professore Emanuele Paoloni che cura tutti gli arrangiamenti e di storia e filosofia. Quindi tre insegnanti a chi di matematica è completamente diverso e che si sono messi in gioco per creare questa realtà. Forse in realtà l'avete creata voi o c'era già qualcun altro? È nata con noi, il professor Paoloni si è inserito, perché è venuto da noi da due anni, questa realtà è iniziata cinque anni fa, però in un modo molto ridotto. Era un coro scolastico che doveva fare un po' di scena nei momenti, non so, Natale, fine scuola, così. Poi pian piano, da pochi ragazzi se ne sono uniti sempre di più, con strumentazioni diverse, con esigenze diverse, con storie diverse. Pian piano abbiamo cominciato a costruire degli spettacoli, ci hanno sentito e ci hanno chiamato da tantissime parti nel territorio. Negli ultimi tre anni avremmo fatto almeno trenta repliche in giro per la provincia di Mantova e anche un po' sul Barsa Bresciana. Caspita, tra l'altro una realtà ho capito abbastanza recente, pensavo foste più vecchi, tra virgolette, perché ho già sentito parecchio parlare di voi. Questo vuol dire che è una realtà che sta funzionando bene ed è un tipo di esperienza che poi è accattivante forse per i giovani che si trovano poi a frequentare il vostro istituto scolastico. Viene anche menzionata, io ricordo quando sono venuta a vedere la scuola, perché anche mia figlia frequenta il Falcone di Asola, ed è menzionata appunto tra le attività extrascolastiche come un po' un fioro all'occhiello, perché vuol dire che in realtà funziona molto bene. Dimmi un po', come si intitola lo spettacolo che portate in questo periodo? Si intitola Ritratti e presenta i ritratti di alcuni personaggi che sono stati importanti per la nostra storia. Ad esempio, quello di cui noi portiamo il nome della sua scuola, che è Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ma non solo. Abbiamo Don Milani, Martin Luther King, Tina Anselmi, Peppino Impastato, Aldo Moro. La cosa bella è che c'è una parte di testo che hanno inventato i ragazzi cercando e quindi cercano informazioni e in questo modo hanno anche modo di ampliare i loro orizzonti. Poi abbiamo anche i disegni, hanno anche rappresentato questi personaggi e poi li portano in giro tipo uomo sandwich e c'è un po' le scenografie nello spettacolo in cui è presentato la faccia del personaggio e anche una frase famosa. E poi tutto intervallato da circa 15 canzoni, con strumentazioni le più varie, perché oltre alle chitarre, basso, batteria, percussioni, ci sono sassofoni, trombe, violino, flauti, beatbox, tastiera. Quindi c'è proprio un po' di tutto. I ragazzi sono proprio dalla prima alla quinta, più alcuni ragazzi universitari che continuano a stare insieme a noi perché apprezzano tantissimo il gruppo che si è formato e il cammino che è stato fatto. Bellissimo. Allora, un po' di musica e poi continueremo a parlare di questa bellissima realtà. Tu lo chiami solo un vecchio sporco imbroglio? Ma è uno sbaglio. Musica, notizie e curiosità dal territorio. Quest'oggi nel nostro appuntamento del pomeriggio il piacere è di avere un bel gruppo di persone che portano avanti un progetto molto interessante, affidato a professori, studenti e anche genitori, che sono una parte fondamentale del progetto, legato a questa scuola superiore che abbiamo detto l'Istituto Falcone di Asola. Abbiamo parlato con questa professoressa, che adesso non ricordo bene i nomi, che comunque, va bene, dopo me lo ridirete, che ha già raccontato come è nato il coro da soli cinque anni ma che ha avuto un grande successo e soprattutto un grande riscontro da parte degli studenti che pian piano hanno capito che il progetto era valido e soprattutto che poteva un pochino unire e creare anche un qualcosa di molto bello. Con noi anche il professore, non ricordo il nome? Paoloni, Emanuele Paoloni. Allora, Emanuele, ti do del tu. Una bella esperienza, ho capito che non si tratta solo di un coro, quindi lo stiamo parlando di un insegnante che dirige un coro, ma di una vera e propria band, tantissimi elementi, abbiamo detto tanti strumenti, ma anche una parte, possiamo dire, tra virgolette recitata, perché comunque quando si legge un testo e si affronta un argomento c'è anche questa parte che poi è molto di impatto sul pubblico. Sì, l'intenzione dello spettacolo è quella di cercare di coinvolgere più talenti possibili, di non far sentire nessuno escluso in modo tale che ciascuno abbia il proprio spazio, anche chi regge i cartelloni che possiamo dire non manifesta immediatamente nessun talento, tra virgolette, ma in realtà si mette in gioco, per cui c'è spazio per tutti. E anche per l'arte, vi hanno detto, perché questi cartelloni poi vengono realizzati dai ragazzi. E sono infatti realizzati sia da ragazzi che fanno parte della scuola, sia anche da ragazzi che fanno parte di altre scuole, che hanno già finito, quindi, e sono delle autentiche opere, dei capolavori fatti dai ragazzi, opere uniche, e è molto interessante questa commissione tra varie modalità di espressione differenti. Bellissimo. Tra l'altro, la cosa che mi incuriosisce è che, pur portando il nome della scuola Falcone di Asola, sono invece alcuni elementi che arrivano anche dall'esterno. Ma avete un po' pubblicizzato questa cosa? Com'è arrivata poi questa collaborazione da altri studenti? Magari qualcuno è più... ricorda come è nata questa cosa? Sentiamo. Ma si parlano tra loro. Noi in realtà di studenti fuori ne abbiamo due. Una è la Valentina che ha lasciato il messaggio anche oggi e uno è un ragazzo che frequenta un istituto a Rimedello. Però è proprio il passaparola, perché uno con l'altro si dicono che è una bella cosa, che è importante, che si trovano bene e quindi sono venuti anche loro. Sono due soltanto di altre scuole, però sono stati accolti e li sentiamo proprio come nostri. Quindi non è indispensabile essere del Falcone, ma è comunque un'esperienza che ha perso. E poi è vero, per i cartelloni ha fatto tre cartelloni anche una ragazza che fa un liceo a Cremona. Quindi proprio abbiamo accolto anche altri. Ed è una bellissima cosa. Come diceva il professore, noi ci teniamo che tutti si sentano protagonisti, che si sentano speciali, che si sentano importanti. Cerchiamo che tutti abbiano il loro spazio per far vedere la bellezza e l'energia che hanno. Sì, non l'abbiamo fatto, anzi io non l'ho fatto, mi scuso, una premessa doverosa. Siete qua perché? Perché questa domenica siete stati protagonisti di uno spettacolo che ha fatto un po' da cornice, da contorno alla premiazione delle borse di studio. Il trentunesimo premio a Donaldo Moratti, che è molto sentito a Castelgoffredo, che è l'opportunità della nostra comunità per così premiare questi giovani meritevoli. Con delle piccole cifre che però possono essere di grandissimo aiuto per il loro studio e quindi per le loro opportunità anche per il futuro. E quindi abbiamo partecipato a questa piccola, grande rappresentazione di un mondo molto importante che è quello della scuola, anche con dei messaggi veramente mirati, molto molto belli. Tra poco continueremo a parlare proprio di questo. A Radio Alfa, momenti di gloria. Musica, notizie e curiosità dal territorio. Con Gloria Bergamini. Siamo ancora qui negli studi di Radio Alfa, ma soprattutto siamo qui con i ragazzi della scuola superiore Falcone di Asola, che partecipano a questa bellissima realtà, che è questo coro, che ha un nome che tu ripeterai perché io continuo a sbagliare. Dimmi come si chiama il coro? High School Choir and Band. Che bello, io non lo dirò mai così bene. A dirlo è stato? Tu sei? Sì, faccio parte del coro dalla prima, adesso sono in terza, quindi più o meno tre anni. Sì, parliamo dopo con te. Sentiamo l'altra voce, l'altra partecipante del coro. Tu sei? Sì, sì? Sei tu? Sì, sei tu? Sì, sei Bezze. Sì, faccio parte del coro da metà della prima e adesso anche io sono in terza. Chiedo a questo bel ragazzo biondo, angioletto è stato definito, ma mi hanno detto che non sei un angioletto perché è biondo e ricciolino, sei? Io mi chiamo Matteo Gervasio e faccio parte di questo coro da un anno. Un anno, ultimo partecipante quest'oggi anche se il coro è molto più numeroso. Io sono Bazzani Luca, suono la tromba e faccio parte del coro da un anno. Quindi la tromba invece, ragazzo, prima è la batteria, ricordo, e voi invece siete due cantanti, giusto? Quindi abbiamo detto non solo semplicemente un coro, ma una vera e propria band con tanti elementi. Allora, non ripeto il tuo nome perché non me lo ricordo, io con la memoria vado male, ma sentiamo un po'. Da quanto tempo è che fai parte del coro? Mi hai detto tu? Più o meno tre anni. Ma hai iniziato subito in prima superiore quando sei arrivata a scuola? Grazie comunque al mio prof di matematica, la Mainardi, che ha fatto un po' pubblicità a questa esperienza. Mi ricordo il primo giorno quando mi sono presentata di aver esplicitato la mia passione per il canto e lei mi ha detto di questo coro, questa band del Falcone. E poi mi ricordo nella stessa settimana che i ragazzi più grandi sono venuti a cercare di chiamare altri ragazzi che sono appena entrati nella scuola per cercare di comunque aggiungersi a questa esperienza. Per coinvolgere un po' anche il resto dei ragazzi su questa esperienza che ritengo sia veramente notevole, è una cosa molto bella, che richiama un po' queste cose all'americana, questi cori che ci vengono, ci viene in mente un po' di questa cosa scolastica che in realtà noi in Italia non abbiamo. Quindi vederla in una scuola italiana qui vicino a noi è veramente una bellissima opportunità. Però ditemi voi insegnanti, professori, chi è stato il primo a dire però si potrebbe fare un coro, si potrebbe suonare. Io direi che questa professoressa che so suona benissimo il pianoforte e pure l'organo che si chiama Saba perché noi ci conosciamo da tanto tempo, vero? Vero, verissimo. Niente, cinque anni fa è nata così. Era venuto un coro da fuori a fare un concerto alla nostra scuola per Natale e insomma c'era un maestro di musica, una conoscenza, un po' anche l'interessamento della preside di allora, Giovanna Di Re, dice sarebbe bello fare un coro, eventualmente possiamo prendere qualche contatto, si sarebbe bello e la cosa è nata in questo modo. Quindi era partito come un coro di voci, cantare a più voci, cantare musiche abbastanza moderne però proprio per educare alla vocalità e dopo pian piano invece sono entrati anche gli strumenti, le cose hanno preso una certa piega, sono andate in un certo senso ed è diventata questa realtà e oggi possiamo dire che l'ultima volta sul palco tra coro, band, cartelloni, attori erano cinquantadue ragazzi. Che è una cosa straordinaria. Straordinaria, veramente. Prove al sabato, spettacoli al sabato e alla domenica e è rarissimo vedere cinquanta ragazzi che tra virgolette perdono il sabato pomeriggio e il sabato sera per fare un'esperienza in comune e quindi è proprio una cosa che noi impariamo da loro e siamo sempre meravigliati e stupiti da quello che sanno dare. Continueremo a parlare di questa bella esperienza tra pochissime. Io non so parlare d'amore, l'emozione. E si continua insieme agli amici oramai, sono di casa questi professori, insegnanti e gli studenti però devo dire ci sono anche due genitori che ci credono fortemente perché no, ho promesso che non vi intervisterò però devo dire anche i genitori la disponibilità perché poi i ragazzi vengono anche scortati sono quasi tutti minorenni, non hanno la patente quindi per spostarsi e fare queste prove se non sono di asola devono comunque restare a scuola oltre l'orario scolastico non è che il pullman sia poi così semplicemente si trova e poi si può tornare a casa quindi insomma la disponibilità è un po' a 360 gradi. Abbiamo detto poi un progetto al quale la scuola crede molto, ci ha creduto molto la dirigente scolastica che c'era prima e mi dicevano che anche Pacchiera che è il dirigente attuale ditemi il nome che mi spugge, Giordano Pacchiera, crede molto in questo progetto un progetto che è stato portato in scena anche grazie alla partecipazione in un incontro formativo per la scuola di Don Ciotti e quindi chiediamo ai nostri insegnanti di raccontarci questa bella esperienza. Niente, noi portiamo questo spettacolo in giro e ci sono forti valori di legalità, di ideali, di idee forti e una rappresentante di Libera ci ha sentito, gli è piaciuto e ha pensato di portare Don Ciotti che era nei paraggi dove andare a Milano nella nostra scuola e quindi è stata un'esperienza bellissima perché lui ha ascoltato tutto il nostro spettacolo e poi è andato anche negli spogliatoi a complimentarsi con i ragazzi, è stato molto contento e poi ha fatto il suo intervento e siamo stati anche in prima pagina sul giornale e proprio sul giornale c'era scritto e noi siamo molto felici, un istituto che è una scuola di vita con la I maiuscola, si è percepito questo spirito. Io non voglio dire, perché io sono onesta, non voglio dire che è la scuola migliore del mondo, però crediamo tantissimo nel valorizzare le persone e cerchiamo in tutti i modi di fare in modo che ognuno si senta davvero importante e speciale e che ricordi questi momenti come un patrimonio che gli resterà anche nella vita. E' molto importante questa cosa che dite e poi molto importante che per questo ci sia una collaborazione una collaborazione tra la scuola, tra gli insegnanti e tra i genitori. Anche di questo si è parlato durante lo spettacolo che avete avuto qui al Teatro San Luigi in occasione appunto della premiazione delle borse di studio del premio Donaldo Moratti parlando anche della difficoltà quest'oggi che ha l'insegnante insieme ad un video molto bello di Massimo Recalcati questo psicologo che ha raccontato di quanto sia difficile quest'oggi fare l'insegnante anche perché la scuola non deve essere semplicemente un modo per dare una via che è solo quella per tutti ma in realtà ognuno deve sapere esprimere se stesso e forse probabilmente il vostro intento è anche questo riuscire a far esprimere i ragazzi in tutto e per tutto. Io vi lascio ancora un attimino con la musica, tra poco abbiamo il nostro ultimo intervento racconteremo dove andrà in tournée il vostro spettacolo nei prossimi giorni e naturalmente poi ci saluteremo. Momenti di gloria, musica, notizie e curiosità dal territorio. E siamo qui nella parte finale della nostra intervista insieme a questo bellissimo gruppo di persone gli studenti non hanno parlato tanto devo dire in questa intervista ma li vedo molto timidi, intimiditi dal microfono però se volete dire qualcosa molto volentieri. Siete felici però di questa esperienza? Ditemelo almeno in coro, vi piace questa esperienza del coro falcone? Sì, guardate. Sì, sì, molto bella. Benissimo. Va bene, ci basta, per quest'oggi ci basta, la prossima volta più preparati. Mentre i nostri insegnanti ci racconteranno cosa prevede il loro futuro, soprattutto per quanto riguarda non la scuola, non vogliamo sapere le verifiche eccetera, ma vogliamo sapere dove si sposterà questo interessantissimo coro con il suo spettacolo? Si è già spostato da varie parti, quindi adesso siamo un po' in affanno perché abbiamo avuto tantissimi incontri. Vuol dire che avete avuto grande successo. Sì, ci chiamano e dobbiamo dire di no anche. Comunque sabato questo, il 16, siamo al Centro Culturale Frida Kahlo che è un teatro a San Giorgio di Mantova. Se potete venite perché è il nostro spettacolo completo e lì avremo anche una buonissima acustica, un fonico e il teatro è molto grande, quindi potrete apprezzare tutto l'insieme delle nostre espressioni. Poi il 9 aprile siamo un evento che però è per le scuole, è in mattinata, è un evento regionale sulla legalità e la responsabile dei progetti della legalità della provincia di Mantova ha sentito del nostro spettacolo e di tutta la risonanza che ha avuto e quindi ci ha chiamato a ripeterlo per questa importante manifestazione. Queste sono le cose imminenti. Poi di solito collaboriamo anche in tutti gli eventi del Comune di Asola, borse di studio, il 2 giugno, il Patrono e poi di solito a fine anno facciamo un concerto per la scuola. Bellissimo, ma voi che sappiate? Altre realtà di questo tipo nel nostro territorio sono presenti? No. Ecco perché vi chiamano così spesso. No, magari dei gruppi teatrali ci sono oppure c'è il conservatorio che fa degli spettacoli, il liceo musicale, coreuci, così. Certo, questo, saperemo. Un liceo scientifico o ci sono anche alcuni elementi dell'ITE o delle scienze umane. Un liceo scientifico che ha tutt'altra vocazione, che fa una cosa così e di così alto livello perché poi da quando... Allora, dobbiamo ricordare la nostra maestra di coro che è Angela Prati che è generosissima e ci aiuta pretendendo quasi niente. E poi da quando c'è il professor Paoloni che è un bravissimo arrangiatore la parte musicale è diventata davvero di qualità elevatissima. Quindi tutti ci chiedono se siamo un conservatorio, se siamo un liceo musicale e invece no. E i ragazzi, qua c'è anche una ragazza che sta studiando, non hanno nessuno sconto dal punto di vista delle materie. Quindi se domani c'è un'interrogazione, domani io stessa faccio una verifica in quinta e c'erano delle ragazze che cantavano oggi, quindi non hanno nessuno sconto. Perciò davvero grande merito a loro, tantissimo. Benissimo, il professore che arrangia anche tutto ma suona qualche strumento quindi immagino. Sì, io ho studiato musica fin da piccolo, ho studiato pianoforte, ho studiato chitarra elettrica, chitarra jazz. E il caspita. Sì, diciamo che la musica ha sempre fatto parte della mia vita, c'è stato anche forse un momento, anzi più di un momento in cui ero indeciso se addirittura abbracciare quel tipo di carriera. Poi la vita mi ha portato verso altre scelte, però la musica torna sempre fuori. Quindi quando sei arrivato al Falcone ad Asola, da quanto tempo sei al Falcone? E questo è il terzo anno. Per te è stata una sorpresa trovare questo coro? Allora, quando hanno nominato, io so che spesso si può trovare un'esperienza musicale all'interno delle scuole superiori e anche in anni passati, in altre realtà scolastiche, io sono marchigiano quindi anche nelle Marche, c'erano delle realtà musicali con le quali avevo collaborato. Quindi appena ho sentito la professoressa Gazzi nominare il coro, io mi sono reso disponibile al primo collegio docenti quando non ci conoscevamo nemmeno, dicendo io ho qualche competenza, posso mettere a servizio per... E quindi ho trovato una situazione molto familiare, ecco, molto recettiva, in cui veramente posso dire che l'impegno è tanto, ma è anche estremamente divertente. E' una cosa stupenda vedere questa bella collaborazione, questi bellissimi sorrisi da parte degli insegnanti e anche degli studenti che domani, se ci sarà un'interrogazione, verranno lo stesso interrogati. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con noi, di aver speso un po' del vostro tempo anche per raccontare la vostra realtà sulle frequenze di Radio Alfa, i nostri microfoni. Quindi seguiteci perché noi vi manderemo in onda molto volentieri, fateci sapere di tutte le vostre iniziative che noi saremo molto onorati di promuovere sul territorio. Un grazie a tutti e buon pomeriggio. Grazie. A Radio Alfa, momenti di gloria. Musica, notizie e curiosità dal territorio. Con Gloria Bergamini. Musica, notizie e curiosità dal territorio.